La Befana Vien dal Mare, in programma il 6 gennaio prossimo al porto turistico di Pescara, chiude il cartellone di eventi natalizi della città adriatica. Giunta la ventesima edizione, la Befana Vien dal Mare rientra per la prima volta nel programma delle manifestazioni comunali. Organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento e dal Comune di Pescara, è l'occasione per portare doni ai bambini, un evento molto sentito dalla comunità, suggestiva rievocazione dell'arrivo dal mare della Befana, divertimento per i più piccoli e occasione di rilancio economico per il commercio pescarese. Siamo giunti alla ventesima edizione dopo tre anni di fermo a causa del Covid, ed è così la tanto attesa Befana che ormai da più di 20 anni giunge sul porto di Pescara con il suo gozzo, con la sua imbarcazione, accompagnata da tutto il personale e da tutti i bagnini. Poi la Befana scenderà a terra sulla banchina per dare un dono per ogni bambino presente all'interno del porto turistico Marina di Pescara. Assieme alla Befana ci saranno anche altri personaggi, come ad esempio abbiamo i rapaci, delle aquile, dei gufi che vengono assieme alla Befana e ci saranno anche dei gruppi di cavalli ad aglietare questa fantastica giornata, l'insegna del divertimento e di tanta felicità. La Befana viene dal mare è un'occasione di rilancio per le attività commerciali, finalmente dopo due anni di pandemia e di fermo. Di fermo e di pandemia. Comunque la ConfCommercio applaude alla Società Nazionale di Salvamento, ai bagnini che ripete con quest'anno la ventesima edizione. Noi come ConfCommercio siamo orgogliosi perché è un'iniziativa che è nata a Pescara, è l'unica Befana che viene dal mare. dobbiamo ricordare in passato che un vecchio bagnatore ha messo in piedi questa iniziativa, la ConfCommercio sta sempre al fianco delle attività bagnari e chiaramente un'iniziativa del genere, il 6 gennaio scende bene su tutta la nostra città.